Nulla da fare, anche il CONI sbarra la strada al Teramo. Il collegio di garanzia infatti ha rigettato il ricorso del club bianco-rosso contro l'esclusione dal campionato di Serie C che è stata deliberata dal Consiglio federale dell'8 luglio sulla scorta del parere negativo della Covizoc che tale è rimasto dopo il primo ricorso presentato dalla società entro il 6 luglio. Bocciato anche il ricorso del Campobasso, va detto che il compito dei legali del Teramo, Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, era estremamente arduo e la strategia difensiva non ha convinto l'organo giudicante presieduto da Raffaele Squitieri a ribaltare la situazione. Una strategia che faceva leva sull'ottenere un nuovo termine per ottemperare a quegli adempimenti non soddisfatti entro il termine perentorio del 22 giugno, confidando nello sblocco delle quote di maggioranza avvenuto lo scorso martedì che conferiva autonomia gestionale al Teramo e nell'ingresso di una nuova figura imprenditoriale, Giuseppe Spinelli, che avrebbe potuto provvedere iniettando nuova liquidità. Resta da capire cosa farà ora la società. Col verdetto di oggi si chiude il percorso della giurisdizione sportiva e se il Teramo vorrà proseguire la sua battaglia dovrà rivolgersi alla giustizia ordinaria, ovvero il TAR, i cui tempi, per discutere nel merito, non sarebbero compatibili con l'inizio del campionato e un eventuale successo darebbe in là un risarcimento e non ad una restituzione della categoria. A distanza di dieci anni dunque il Teramo lascia il professionismo e non sul campo, ma per questioni che passano per quella giustizia sportiva che peraltro sette anni fa aveva cancellato una Serie B che la squadra aveva pienamente meritato sul campo. Più verosimilmente si apre ora un nuovo scenario e un nuovo fronte nel quale il sindaco Gianguido d'Alberto potrebbe richiedere al Presidente federale un titolo sportivo di Serie D in sovrannumero da attribuire a una nuova società, scelta tramite bando, sulla scorta delle disposizioni dell'articolo 52,10 dell'Enoif. Una strada sulla carta praticabile, anche se l'attuale numero, già superiore rispetto alle 162 di base per la partecipazione alla quarta serie, potrebbe raffreddare gli intenti della Federcalcio a distribuire altri titoli in sovrannumero. Tutti passaggi che saranno più chiari nei prossimi giorni. Grazie a tutti.